La redazione in volo interviene in merito ai recenti trasferimenti delle Suore Dorotee di Strongoli, lanciando un appello di sensibilizzazione alla cittadinanza. Apprendiamo con stupore anche del trasferimento di Suor Antonella Ramanzin, destinata dal 5 settembre prossimo presso la sede di San Giovanni in Fiore, dopo 21 anni di servizio nella nostra città di Strongoli. Trasferimento preceduto lo scorso mese di luglio da quello di Suor Fausta, destinata a Vicenza. Siamo spiazzati allo stesso tempo smarriti da tutte queste scelte assunte negli ultimi mesi dall'Ordine di Appartenenza delle Suore, una congiuntura che ci rattrista e ci pone molti interrogativi che sicuramente non sono casuali e che hanno influenzato lo stato d'animo della nostra comunità. Non possiamo accettare il trasferimento di due importanti figure che tanto hanno dato al nostro territorio. La redazione in volo si attiverà con tutti gli strumenti a disposizione affinché non sia smantellato o ridimensionato lo storico convento Giulia Giunti, sede delle Suore Dorotee, con una storia di oltre 100 anni di apostolato e impegno civile. Una storia iniziata nel lontano 1920. Grazie a tutti.